Dopo solo dieci minuti mandano in scena il manuale del contropiede sull'asse di Mauro Battistuta-Ruicosta, sempre bravo a trovarsi al momento giusto, nel posto giusto. Il portierone nulla può in apertura di ripresa quando Igor Kolivanov decide di dare ragione a chi sostiene che senza la sua lunga assenza il Foggia oggi avrebbe traguardi diversi dalla salvezza. Certo è che da solo il russo porta a spasso l'intera difesa viola. Toldo trova il tempo per un'altra serie di protezze ma non per i miracoli e ci vorrebbe proprio quello per impedire a Cappellini di segnare il gol che può valere un campionato. Splendido l'assist di Bressan.